La primavera scorsa Luigi si è presentato in Proloco, proponendoci questa bellissima avventura, il canto, aperto a gente di tutta l'età. Luigi ha passato gran parte del suo tempo libero ad ascoltare chi voleva mettersi in gioco e a dare consigli su come impostare la propria voce, ha trasmesso la sua passione ad ognuno di noi. Ma la giornata più bella ed entusiasmante è stata quella di salire sul palcoscenico, un'emozione ed una gioia immensa, soprattutto quando gli applausi arrivavano a croci su ogni partecipante. Ciò che più bisogna apprezzare di ognuno di noi non è l'intonazione, anche perché siamo tutti cantanti per caso, ma proprio il fatto di mettersi in gioco, il coraggio di affrontare il palcoscenico con il pubblico di fronte. È proprio per questo che lancio il mio appello a tutte le prologo di zona. Invitate con locandine e manifesti la gente del vostro paese ad avvicinarsi al canto. Tutti possiamo riuscirci, basta un po' di buona volontà ed un pizzico di tempo per potersi incamminare in questa meravigliosa avventura. È un modo per conoscere gente, divertirsi, alzare l'humor e perché no, sentirsi per una sera una stella. Grazie.